Ciao ragazzi, sono Diego, ho come su Instagram pesca con me, pescadur22 e oggi andremo a fare una sessione di pesca al lago Valtorre di Romentino. Per questa sessione io non sono esperto di bolognese, quindi mi sono provato a inventare una tecnica. Metterò una testina piombata da 3 grammi, non 2, 3, 3 grammi con un verme, i classici vermi di terra, adesso vi farò vedere dopo, delle mie mitiche 3 canne. Questa è la Hulk da bolognese, questa qua, vabbè poi abbiamo un classico picchetto normale, il retino, e quella che vedete, che non si vede praticamente, ma si vede solo il mulinello, che è questa qua, è la mia mitica Akira della Numurra, che andremo poi a inserire un verme di terra, sulla testina piombata, come ho detto, gambo lungo ovviamente l'amo. Andiamo dal più di vicino, allora, guardate, questa l'ho montata così, allora, come vedete, piombini all'italiana, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grammi, a modello abbastanza piccolo, come si può vedere, lo vedete, ok, filo madre 20, il terminale del 10, dall'alleggiante, vabbè, comprati al Decathlon per questa sessione, che è una sessione sponsorizzata, la mia mitica Akira, lo vedete con la testina piombata, quella girelle, retino, vabbè, retino, e poi abbiamo la nostra tessetta. Una cosa soltanto, questo laghetto non sono mai andato, quindi porterò dietro anche varie attrezzature da spinning e da trabutaria, perché la mia Akira è fatta da trabutaria, e vedremo come sarà, probabilmente tra poco mi troverete anche su YouTube, quando riuscirò a capire come funziona, e se avete qualche laghetto o qualche sessione di pesca che volete vedere, scrivetemelo. Questo laghetto, un'ultima cosa, questo laghetto consiglio a molte persone, vediamo se c'è il telefono che non cada, ok, che è piuttosto, come posso dire, facile da pescare, perché l'acqua è profonda a 1,30 o 1,50 m, non si possono pescare le carpe, tutte trote, l'acqua bassa è quindi facile, cioè, appunto, per la mia, diciamo, per il mio livello di gare, è basso, però l'ho visto, sembra abbastanza carino, e andrò a provarlo, e per adesso ve lo propongo, visto com'è, ricordatevi, laghetto Valtorre, controllate il sito web, e l'unica cosa, forse, che non mi piace, è che con 15 euro, possono pescare al massimo 5 ore, 5 euro, non c'è, oddio, scusate, con 15 euro, possono pescare al massimo 5 trote, il tempo, può essere infinito, fin quando ne prendete 5, ovviamente, dall'orario di apertura e chiusura, è aperto solo il sabato e la domenica, poi queste cose le vedete sul sito, spero che questo video vi sia piaciuto, e forse faremo la continuazione, la continuazione del video, soprattutto, e un saluto.